numero 5 pratica e funzionale conigliera da esterno il tetto piatto con rivestimento in feltro garantisce una funzione protettiva e isolante da caldo e freddo la casetta è dotata di due porte una in legno e l'altra in filo di ferro la superficie è laccata con vernice impermeabile ed ecologica le alte gambe in legno consentono di proteggere la conigliera dall'umidità del suolo la casetta è realizzata in legno di abete trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questa conigliera da esterno è realizzata in solido legno da bete e dipinta con vernice atossica per un uso a lungo termine il tetto è resistente all'acqua la conigliera è facile da pulire grazie al tetto con cerniere alle ampie porte frontali e al vassoio inferiore estraibile la porta a rete assicura alla casetta una corretta circolazione dell'aria il design rialzato mantiene i tuoi animali domestici lontani da terra e al riparo da freddo e umidità ideale per un coniglio di circa 3 kg in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 3 questa conigliera può ospitare quattro conigli dispone di un ampio spazio aperto ideale per conigli e roditori realizzata in legno e metallo dotata di due porte d'accesso con serratura semplice il montaggio puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 la conigliera è realizzata in solido legno di abete robusto e resistente per garantire una lunga protezione ai tuoi conigli e altri piccoli roditori la struttura a due piani offre un ampio spazio per muoversi questa gabbia per conigli da esterno è recintata con filo metallico per tenere al sicuro i tuoi animali all'aperto il tetto della casetta resiste all'acqua e ai raggi uv il tetto inoltre è apribile ed è dotato di blocco facile la pulizia grazie ad un vassoio rimovibile una rampa di accesso consente il collegamento tra all'interno della casetta alla zona aperta trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 questa casetta per conigli è realizzata in legno resistente con tetto impermeabile ottimo rapporto qualità prezzo la conigliera da esterno dispone di una zona per riposare facile da pulire dispone di un vassoio di raccolta scomparsa accesso semplice grazie alle porte chiudibili con serratura realizzata con materiali resistenti e durevoli nel tempo il prodotto necessita di montaggio se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione